1,2,1,2,3 Ah, yeah, 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 yeah. Bene ragazzi siamo qui al settimo episodio della Mistocraft il ritorno per la terza volta salutiamo il nostro boss siamo saluta eccolo qua bastardo e che fare oggi ancora c'è tutta la roba che palle tipo se facciamo una cosa come si chiama smistamento di test insomma prova a fa mmm boh boh oh mamma che palle sti gatti li odio eeeh te ne so il nome dell'ander? si no vediamo un po' sti 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 oh ok ecco . ma bu e che cavolo morite vai i bambini però se distruggiamo qualcosa che facciamo che fa un sacco e lo distruggo mi faccio un po' meno anzi si distrugge moffa ancora boh 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 ho finito ragazzi vedo un attimo il libido di lucco come si fa l'amistamento certo iniziamo ok riaccomi ragazzi guardate di dio bono mannaggia i bug mi ha levato tutta la roba tutta meno male che non è tanto tanto della quale si può migliorare sto bug si può rimediare mannaggia mannaggia la buttata maffo un culo non è tanto non è tanto maffi mannaggia maffi non è tanto chiediamo cosa avevo fatto quelli schassi e tutto senza gli hack per un fatto un piano cazzo se non ci riesco a rifarli me lo uso 2 di dance palle che manca il fondo del generatore stava a fare che avevo fatto questi qua stava a fare i tubi di ferro e i tubi di stone per unirli invece avevo fatto una bella sorpresa che cazzo che mi rompe le palle un'altra 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 si muoio non c'è più nemmeno lo spawn non mi spiega ragazzi scusate la voce di mamma ma è sta mio nonna quindi se mi fa un bar di casino dai stanno qua i tubi ma che palle ragazzi rimetto il video quando ho fatto a casa perchè mi stanno a girare le palle rieccomi ragazzi ho usato due miei items ragazzi ma non mi frega ho usato solo per i mattoni e il muro perchè il generatore e l'iron furnace ce l'avevo sull'inventario ripeto ce l'avevo e lo chassis kmmk2 ce l'avevo dentro l'inventario allora mangiamo e finisco da so smistamento cesta questi qua allora 6 6 2 3 4 5 6 ok 48 tubi ragazzi abbasseranno? abbasseranno? 1 aspettate ragazzi che non ci vedo 2 3 4 5 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 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 non è che sta ok electric sarà non è il mio oh electric suonness eccolo qua ci saranno il mamma che è stata elettrica ma non c'è il la buttana sul parcheggio strillano oh ma mo ci tiro mo ci dico gravi pericolino scusa non ci sta il cavo sotto che funziona e allora ho fatto cazzo ok 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 bruciamo impariamoci questa questa la metto dentro qua fuori dubbi chiudiamo jet engine e continua a vedere non c'è la puttana ragazzi io rinuncio non me ne frega un cazzo ma manda a fanculo la mistograph non la inizierò mai più provo a iniziare quella della 1.4.6 che ha iniziato il look ma provo mo non mi frega un cazzo ma vedete che cazzo ma vedete che cazzo faccio perchè non stanno faccio un casino ma ragazzi mi frega un cazzo se va faccio un casino non mi frega più un cazzo tanto ragazzi si va si va porca puttana se fosse una saprissima musica jazz musica 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 non mi sembra un cazzo ragazzi potete dire quello che vi pare ma mi sono rotto le palle terza volta terzo consecutivo il bug lo stesso bug e mi sono stufato mi sono letteralmente stufato eccomi ragazzi mi frega un cazzo eccomi 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 eccomi